Un altro metodo per analizzare la mozione è quello delle 6C. Prima di iniziare a costruire argomenti a favore del proprio punto di vista, i debaters dovrebbero considerare e analizzare i seguenti fattori. Il contesto, la caratterizzazione, le conseguenze e le alternative, i concetti o principi base, i conflitti o punti di scontro e i contenuti. Per comprendere meglio il significato e i risvolti pratici dell'analisi delle 6C, prendiamo in considerazione la seguente mozione. Per combattere i cambiamenti climatici bisognerebbe vietare le automobili. Nel prendere in esame il contesto dovremmo chiederci perché le automobili costituiscono un problema nella realtà attuale, e quali sono gli eventi rilevanti dietro la mozione. La risposta potrebbe essere questa. Le automobili rappresentano una sfida per la società dal punto di vista urbanistico, perché le infrastrutture stradali occupano molto spazio ed ecologico, perché molti dei veicoli attualmente in circolazione sono alimentati da carburanti convenzionali e costituiscono pertanto uno dei fattori principali di inquinamento dell'aria nelle grandi città, con conseguenze negative per la salute dei cittadini. Dovremmo poi individuare e prendere in esame la caratterizzazione, cioè l'insieme dei soggetti, sia individui che organizzazioni, coinvolti nell'attuazione della mozione o stakeholders. Nel nostro caso sono almeno quattro. Le case automobilistiche è l'indotto, cioè le industrie che producono alcuni componenti delle auto o che le commercializzano, gli amministratori delle aziende automobilistiche e i dipendenti. Il governo, che vuole preservare sia la forza economica che il benessere ambientale. Chi usa abitualmente l'automobile per raggiungere il posto di lavoro o per altri scopi. Dovremmo poi chiederci in che modo tali soggetti o stakeholders saranno coinvolti nell'attuazione della mozione. Che impatto avrà in sostanza la messa al bando delle auto? Per esempio, i privati dovranno rinunciare all'auto e il governo sarà costretto a fornire un'alternativa. Le case automobilistiche e l'indotto perderanno il peso economico e finanziario e dovranno in qualche modo riconvertire la produzione. Infine dobbiamo prendere in considerazione quali sono gli interessi dei soggetti in questione rispetto alla mozione. La reazione delle cause automobilistiche è facilmente prevedibile, ma nulla vieta di ipotizzare che il divieto potrebbe essere uno stimolo all'innovazione e alla riconversione della produzione. La limitazione progressiva della circolazione delle auto fino al divieto totale gioverebbe indubbiamente alla salute dei cittadini sotto diversi aspetti. Ma quali conseguenze avrebbe sui lavoratori nel settore dell'auto? Il governo sarà interessato all'attuazione della mozione, ma dovrà tener conto dell'elettorato, le cui priorità sono altre rispetto all'emergenza ambientale.